Come si comporterà con te durante le feste? Si farà risentire? Allora, quello che devi fare è scegliere o la stele o la piramide o il Buddha. Scegli, fai la tua scelta, o stele o piramide o Buddha. Prendi tutto il tempo che ti serve per fare la scelta giusta e questo è quello che devi fare. Allora, iniziamo a togliere il Buddha, iniziamo a togliere la piramide e partiamo con la stele, per chi ha scelto la stele. Allora, utilizzerò quindi qua due tipi di carte, i tarocchi di Zen di Osho e gli arcani maggiori invece, dei tarocchi. Allora, vediamo un attimino come si comporterà con te durante le feste. E se si farà risentire. Vediamo un attimino che cosa ci dice. Allora, mescolato il primo mazzo, mescoliamo il secondo mazzo e poi andiamo a vedere che cosa ci dice. Come si comporterà con te durante le feste e si farà risentire, per chi ha scelto la stele, la stele di quarzo rosa. Allora, vediamo un po' che ci dice. Allora, beh, intanto si crea un'unione, quindi questo sicuramente in qualche modo è una persona che ha una visione positiva di te, perché tu rappresenti comunque qualcosa per questa persona. Quindi questa è una cosa fondamentale. C'è un'afflizione. È una persona che in questo momento sta vivendo una situazione, diciamo, di disagio. Di disagio, non so se per pentimento, nel caso si fosse allontanata, o per altri motivi. Però diciamo che non è una persona tranquilla, non è una persona serena. Quello che va alla ricerca è del successo. Il successo è qualcosa che probabilmente è questo, che non lo rende completamente sereno, che non lo rende completamente... Si sente bloccato, ecco. Quindi, in realtà, vorrebbe dirti qualcosa, vorrebbe fare qualcosa, ma c'è un blocco. Però tu rappresenti sicuramente un riferimento, non sei una persona a cui non pensa. Vediamo un attimino. Quello che... perché le prime tre carte rappresentano lui, le seconde tre carte, vediamo la tua rappresentazione, poi diamo la conferma con gli arcani maggiori. Quello che devi imparare a fare è rivolgerti al tuo interno, cioè non restare bloccata sulle apparenze, ma devi riscoprire la tua interiorità. E soprattutto ci sono dei confronti che qua evidentemente stai facendo tutti i paragoni in modo fallimentare qualcun altro o qualcun'altra, e questo devi evitare di farlo. Non è supplicando le persone che si ottengono le cose, ma dimostrando il proprio valore, dimostrando la propria forza. E l'ultima cosa rallenta, cioè la fretta creativa consigliera, se vuoi ottenere qualcosa da questa persona, devi lasciarlo nel suo brodo praticamente, devi lasciarlo nel suo brodo. Vediamo se si farà risentire, cosa ci risponde in tavola. Quindi sicuramente se è una persona che hai ancora potenziale, non devi sciuparlo cercandolo, devi semplicemente lasciarlo nel suo brodo, farti le tue cose, e è una persona che comunque sta vivendo un momento di tristezza, di afflizione, cazzi suoi insomma fondamentalmente. Vediamo un attimino che ci dicono ancora, ne abbiamo dato ancora una girata. Allora, diciamo che la temperanza, ti stai dicendo che ci vuole pazienza, vediamo tre carte qua, è uscita dritta, quindi non è una perdita di tempo, hai la forza, quindi diciamo hai una carta di potenza, quindi tu hai la forza per sopportare, diciamo, questo eventuale distacco, quindi questo non dovrebbe penalizzarti più di tanto. E beh, c'è anche la carta dell'innamorato, dell'innamorata, quindi direi che nelle vacanze si farà risentire, devi solo però mettere dei vincoli, perché se non metti dei vincoli non ottieni veramente nessun risultato, impara a mettere dei vincoli e ci sarà un ritorno a questo punto di vista. Vediamo perché ha scelto la piramide, passiamo alla piramide, quindi perché ha scelto la piramide e iniziamo a mescolare i tarocchi zen di Osho. Vediamo cosa ci dicono, prime tre carte lui, seconde tre carte te. Vediamo un po' qual è il, come si comporterà, diciamo, nei tuoi confronti, cosa vivrà questa persona e se si farà risentire durante le feste, durante le festività. Vediamo un attimino cosa ci dice. Allora Sta proiettando molto, e questo per te è positivo, cioè proietta, diciamo, delle sue immagini interne su di te, che possono essere positive o negative, ma questa è un po' la base, diciamo, dell'innamoramento, è un po' la base del coinvolgimento. E' una persona armonica, comunque, che sta vivendo un buon periodo, un'armonia, e quindi questo anche, avere a che fare con una persona equilibrata è sempre meglio, sull'orlo dell'esaurimento, cioè la sua armonia interiore, però, lo porterà, è un'armonia finta, probabilmente sta dicendo proietta, perché sta vivendo un forte esaurimento, un forte stress, probabilmente da un punto di vista pragmatico, è per questo che va alla ricerca di un'armonia interiore che probabilmente non ha ancora trovato. Vediamo quello che tu devi fare, ma è sicuramente una persona che fa parte delle tue vite passate, quindi è un amore cosiddetto karmico, una relazione comunque karmica, che fa parte un po' delle tue vite passate, del tuo precedente, e ti sta dicendo che devi comunque, non devi mollare la presa, ovviamente non mollare la presa non vuol dire che devi stare lì col fatto sul collo di questa persona, però ci sono le possibilità, e quindi partecipa, dagli in questo caso un piccolo aiutino, diciamo così, potrebbe essere che anche fai gli auguri tu, per prima, perché questo potrebbe essere una situazione, diciamo, di partecipazione. vediamo con gli arcani maggiori se ti cercherà o no durante le vacanze. Vediamo un attimino, se ti cercherà o no, mescoliamo. Allora, beh, tutto è possibile, è possibile, non ci sono, cioè potrebbe anche fare foglie d'amore come sparire. Però diciamo che c'è un giudizio, quindi probabilmente c'è qualche blocco logico-razionale, espresso qualche giudizio, probabilmente è negativo nei tuoi confronti, non so per quale motivo, però c'è stato un giudizio. Ed è una persona, comunque c'è un'ambiguità, quindi anche qua non è detto che si faccia risentire, potresti anche mandare tu un messaggio test per capire come reagisce questa persona. Direi che potrebbe essere anzi la strategia migliore per raggiungere dei risultati da questo punto di vista. Ecco, questo è per quanto riguarda la seconda stesa che ha scelto la piramide. E veniamo alla terza stesa che ha scelto il Buddha. Quindi togliamo la piramide e facciamo entrare il Buddha. Allora, partiamo con i tarokhi zendiyosh, come si comporterà durante le festività. Vediamo un attimino come si comporterà durante le festività. Prime, tre carte rappresentano lui, seconde, tre carte rappresentano te. Come si comporterà durante le festività. Vediamo un attimino che ci dice. Allora, vediamo un po'. Il coraggio. Quindi, sicuramente una persona che ha coraggio, una persona che ha un interesse, tieni presente che adesso puoi scegliere esattamente tutte le carte, diciamo, anche capire un po' quale delle tre stese è più in risonanza con te. Comunque, una persona che si sta connettendo alla fonte, quindi una persona sicuramente di valore, una persona con personalità forte e anche che pratica il silenzio, quindi non è un fanfarone. Quindi questo ti sta dicendo che è una persona comunque coerente con se stessa e coraggiosa. Tu rappresenti un po' l'innocenza, probabilmente ti sei fatta un po' come dire, hai preso probabilmente l'ucciole per lanterne un po' nell'ambito di questa relazione e infatti ne sei stata condizionata, ora dovresti liberarti un po' da questi condizionamenti, da queste dipendenze che probabilmente hai maturato verso questa persona perché ti sei repressa fino adesso, ti sei repressa appiattendoti su questa situazione, quindi il comportamento che avrà sarà di persona equilibrata, però probabilmente non ti cercherà, vediamo cosa che ha, potrebbe anche cercarti, però non è una persona che si comporta male, probabilmente qua il problema è un po' la proiezione che tu hai avuto che non è così coerente con quello che diciamo che pensavi che fosse e vediamo un attimino cosa ci dice, cosa ci dicono gli arcani maggiori, ma sicuramente avrai fortuna, quindi questa cosa qua, la fortuna sta dalla tua parte, quindi il che è positivo quando l'universo si muove diciamo che sa muovere giustamente le pedine, ci sarà giustizia, un'altra carta interessante, quindi verrà fatta giustizia, quindi anche morale, quindi se è giusto che ti cerchi perché ci sono create le condizioni, ti cercherà, e poi l'eremita rappresenta un po' la solitudine, comunque diciamo che è una persona che sta vivendo anche come era venuto fuori anche prima un po' di percorso interiore, di crescita interiore, comunque non è una persona negativa e le possibilità che ti cerchi sono davvero molto molto elevate, sta a te e puoi gestire un po' al meglio la situazione. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok, e ti ricordo che sui canali ti puoi abbonare.